40 anni di storia, Goma è presente ad SPS, sono in compagnia del business development manager dell'ingegner Gozzo. Ingegner Gozzo, buongiorno. Buongiorno. Cosa producete? Allora, noi siamo un'azienda presente da 40 anni sul mercato italiano, produciamo computer e sistemi per applicazioni di automazione industriale, trasporti e in generale il mercato dell'industria. Cosa state presentando e proponendo ad SPS Italia? Allora, in questa vetrina proponiamo soprattutto i prodotti legati a computer industriali fanless, di dimensioni contenute e configurabili per applicazioni che spaziano da quelle che possono essere sistemi di test, sistemi a bordo macchina e la tendenza che vediamo è quella di avere dei computer di dimensioni sempre più contenuti che possono lavorare anche in ambienti diciamo critici e sicuramente senza elementi che possono essere deboli come ventole e quindi insomma questi sono i prodotti che stiamo presentando con successo. C'è una particolare novità che avete proposto? Sicuramente direi questa linea di prodotti è uscito, è stato presentato recentemente l'architettura i7 Skylake di sesta generazione da parte di Intel e quindi direi che i prodotti basati su Skylake sono sicuramente un prodotto interessante che coniuga prestazioni molto importanti e dissipazioni contenute. È la prima edizione per voi quella di SPS di quest'anno? No, è la quarta volta che torniamo e riteniamo che sia l'evento più importante in Italia per l'automazione e quindi è sempre un'ottima vetrina e torneremo anche l'anno prossimo. Allora ci vediamo il prossimo anno, grazie e buon lavoro. Arrivederci.